Le storie a distanza una volta erano sinonimo di relazioni impossibili, ma oggi con l'ausilio di strumenti tecnologici come FaceTime o Skype, le distanze si accorciano e si possono condividere momenti ed emozioni anche se non si è fisicamente vicini. Ma le storie a distanza possono davvero esistere e durare nel tempo? Allora, io ho avuto una storia a distanza, però alla fine non arrivi mai a conoscerti veramente. Sicuramente, ti puoi vedere, però finché non sei lì, che ti vedi magari anche due volte alla settimana, tre volte alla settimana, ti puoi conoscere anche su un telefono, su una chat, ma non sarà mai come essere lì dal vivo. Cosa manca secondo te? Manca la presenza, cioè due persone che si parlano, si frequentano. Quanto è andata avanti questa storia? Un anno. Non poco? Un anno e mezzo, sì. Parecchio tempo? Eh, sì, un po'. E utilizzavate che cosa per vedervi e sentirvi? Allora, cellulare, primo, più che altro telefonate, poi ci vedevamo magari anche tre, quattro volte al mese, ma poi siamo andati a convivere, però non è andato a buon fine, perché per la fine ci siamo accorti che in tante cose non andavamo d'accordo. E probabilmente il fatto di avere una storia a distanza non vi ha permesso di scoprirlo prima, mi stai dicendo questo? Eh, sì. Prego. Sì, possono esistere, dipende da che voglia sia di stare insieme. Quali sono secondo lei le maggiori difficoltà di una storia a distanza? Vedersi poco e riuscire a dar fiducia a un'altra persona. Nonostante questo lei pensa che possono durare nel tempo? Sì, secondo me sì. La fiducia prima di tutto, la voglia di stare insieme e essere innamorati veramente, se no non funziona neanche se abita vicino a casa tua, quindi... Le è mai capitato di vivere a una storia a distanza? No. O di conoscere qualcuno che l'ha vissuta? Sì, quello sì. E com'è andata? È andata bene finché c'è stato l'amore, poi dopo come qualsiasi storia se non c'è più amore finisce, sia che sia vicino sia che sia lontano. Quindi non è finita per la distanza? Sicuramente no. Oggi forse le nuove tecnologie aiutano anche? Anche sì, però con la tecnologia è un po' squallido, sinceramente, però può essere. No, perché penso che comunque i problemi, anzi, vengono in superficie ancora prima, perché ci sarebbero troppi dubbi, anche al di là di uno schermo, tu non ci sei a prescindere. Quindi per quanto io possa parlare con te, comunque io non ci sono, tu non ci sei e i problemi nascono comunque, penso. E al di là invece del metodo che si utilizza per comunicare, credi che vivere lontani possa influire negativamente sulla storia oppure può essere qualcosa di positivo che le permette invece di durare più a lungo? Penso che dipenda dalle situazioni, nel senso che, ad esempio, per come sono fatta io avrei bisogno tanto della persona a fianco a me, quindi influerebbe negativamente perché sarei sempre in apprensione, in ansia per quello che succede dall'altra parte. Conosco persone che invece si sentono invigorite perché quando si vedono è quell'unica volta e la vivono molto bene. A te mi è capitato di vivere una storia a distanza? No, il massimo che è stato è stato 30 km e quindi si poteva vivere, insomma sì.